Was, van, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmi. 10 aprile, musica, concerto con il quartetto Hugo Wolf, Conservatorio Claudio Moteverdi, Bolzano, Re 20-22. Teatro, Benny e il Coniglio di Pasqua, Teatro Cortile, Bolzano, Re 17-18. Conferenze senza pesare sulla terra, Eurac, Bolzano, Re 20-22. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it